Da oltre vent'anni Di Poce sta tenacemente proponendo le ragioni della letteratura contro ogni possibile degrado di umanità. Lo fa con coraggio e coerenza, alternando l'affidato epigramma e il luminoso aforisma. Di Poce è un esploratore di generi e si muove con scioltezza dall'arte alla letteratura, dalla poesia al saggio all'aforisma. Anche sul piano lessicale il cerca di aprire nuovi orizzonti, affidandosi alle risorse della creatività e alle forme in evoluzione dei poesismi, coniugando etica ed estetica come indicano gli appunti per una nuova estetica della visione e una nuova etica fotografica.